Stop! Stop! Basta con Danza! Ma dove guardate? Sono qua! Qua! Avete avuto come da debbion l'accoglienza folklore locale. Vi è piaciuta? Il programma prosegue con il tropical cocktail di benvenuto che sarà servito nel spiazzo alla vostra sinistra. Via! Sì, sì, andiamo, andiamo. Alza, mi! Mi comunicano che il cocktail è stato spostato per ragioni tecniche al palmetto alla vostra destra. Corre, Raus, Raus! Siamo in campo! Nuovo controordine. Il cocktail si era servito nel bungalow oltre la piscina. Capitola, Raus! Ehi, ehi, ehi! Tutto che fai? È sempre uno di ogni gruppo che vuole fare tutto di testa sua. Sei italiano? Sì. Siete tutti uguali, tutti coi baffi neri. No, io... Mangi spaghetti, suoni il mandolino. No, 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 no. Dici cose e poi fai altra. Ma io... Guarda che qui devi rigare, drezza, carvizza! Raggiungi gli altri! Senta, guarda che io non ho... Via! Raus! Ecco, ecco, vi. E gradisce? Ecco, posso... No, no, buona, buona. Questo cocktail porto è molto pericoloso. Guarda, guarda. È un po' pericolo. Eh, sì, però devo dire che è buono. Sì. Ah, è divertente. Sì, ma ti c'è questo? Sì. Permesso, permesso, permesso. Scusi, questo me lo bevo io tutto. Era il famigerato e temutissimo Torriente de Fuego. Un quarto di gin, un quarto di rum, cucchiaio da tavola di peperi gallenna, paprika, peri peri africano, nitro, glicerina, viccia curta, sale e pepe. Come va? Eh? Si è rinfrescato? Era un po', era forte. Era un cocktail molto... Li fanno molto forti, a queste parti.